There's no bass I'd rather be A presto di rilevare se iscriviti su siti e abbi messi video Oggi oggi siamo qui formati con una nuovissima parodia Che questa volta seriamente non ha ancora fatto nessuno in Italia Almeno credo perchè da quanto ho visto non c'è ancora una parodia del genere Che sarebbe la parodia della ragazzina Io odio a Rania Grande che mi è stata suggerita da uno di voi Vi ringrazio moltissimo per suggerirmi le parodie Qui sotto nei commenti suggeritemi altre parodie da fare Quindi ragazzi condividete questo video Perchè dovete far sapere al mondo che sono stata la prima in Italia a fare questa parodia Ok? Né Awed né chi fa le parodie Nessuno ha fatto ancora questo video Quindi mi raccomando condividete Sponciate Iniziamo subito con il Allora ciao a tutti Devo dirvi una cosa Dizzi tutto tesoro Io odio Riana Grande Ok Sono l'unica persona su 99 Sono l'unica persona che odia Riana Grande Riana Grande L'unica persona su 99 Cioè Nel senso stanno 99 persone Là in mezzo Ma che ne so Ma che cacchio Cioè che significa Certo agente Madonna Poi dici perché uno sclera C'è queste parodie E poi dici Enzo devi arrabbiassimi Come cacchio fai un arrabbiati Eh raga ma quando pronunciate la parola Arianna Grande Ah mamma mia Proprio un dolore qua Al braccio Alla destra Alla ginocchio A tutto Cioè avete visto questa Arianna Grande Ah la testa Arianna Grande Il cervello Peccato che a questa qua Non gli fa mai male il cervello Perché non ce l'ha Oh dio prima Mi ricordo Stavo guardando un suo video Brava Problem Il video ufficiale Ah beh certo Perché mica Riana fa i video farlocchi Cioè Quello originale Quello taroccato Stavo per spaccare il telefono Con un cazzotto Spaccare il telefono Con un pugno Spaccare il telefono Dalla rabbia che mi faceva No questa qua non è la data È una grande Vabbè Cioè io voglio Vabbè Basta Basta Mettete nel vostro dizionario La parola Brucittissima Ok Brucittissima Mi raccomando Tutti quanti Ai vostri professori Ai vostri maestri Dovete dire Brucittissima Ok Prof Quando dirà Bruttissima Voi dovete dire Prof Non si dice bruttissima Si dice bruttissima Ok Poi forse Ariana Grande Viene considerata Una della ragazza Più bella al mondo No Per lei è bruttissima Ma ti sembra guardata Ah no Giusto Perché tu Appena te specchi Lo specchio Si spacca Dei capelli sporchi Dei capelli sporchi Capito Perché a lei Andata Ariana Grande Ha toccato i capelli Ha detto E' sto sporchi Vabbè C'è rinosa Questa qua Che cacchio ragiona Perché Il cervello Che ce l'ha Quindi con che ragiona Allora Mettete un pollice In su Se amate Se odiate Ariana Grande Mettete un pollice In su Se amate Odiate Odiate No No Pollice in su Se odiate Ariana Grande Pollice in su Se odiate Ariana Grande A Arana 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 E se l'amate Non fate Non fate niente Non fate niente Mi raccomando Non fate niente Se la fate Se io Non fate niente Niente Andate avanti Andate avanti Che la vita E' bella Mettete un commento Dicendo Ciao Io odio Anna Grande Ma chi Io Ma chi Te l'ha chiesto Pop 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 E voi Ragazzi Dolcetto Scherzetto Stacco il video Prima che Spacco anche Il telefono Ok Questo video Vi vorrei augurare Anche Buone feste Perché questo video Uscirà mercoledì Se non sbaglio Quindi Mi raccomando Buone feste Buon Natale Buon tutto Ci saranno Video tag di Natale Dopodiché Quindi Mi raccomando Spoliciate Ragazzi Spero che questo Vi sia piaciuto Se sia Lasciato Beh Spoliciate in su Aggiungiamo Vi chiedo 200 like Per un prossimo Video Condividete questo video Su tutti quanti I social Seguitemi su Instagram Su Facebook Tutti i link Qui sotto In descrizione Anche Periscope Che faccio Belle live Poi ragazzi Se non siete ancora iscritti Iscrivetevi Se non siete già iscritti Iscrivetevi Un'altra volta Quelli ancora più Belli Commentate qui sotto Altri tipi strani A farci La parodia Possibilmente Chi ancora non l'ha fatta La parodia Su quel tipo E niente ragazzi Ma non ci vediamo Fino al prossimo video A ve Spero che lo so Qua qua Ciao belli Ciao 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 Grazie a tutti.